buongiorno a tutti ragazzi allora breve video partiamo dal nostro gruppo abbonati il gruppo vincente abbonati ieri sera è uscito un numero eccolo qua ieri sera su torino mi raccomando previsione fortissima non si molla per stasera giochiamo quella abbiamo solo questa previsione poi ovviamente con l'estrazione di stasera i miei ragazzi sanno che andremo a fare il calcolo della tecnica milano napoli parte 2 che lo scorso mese ci ha regalato due ambisecchi con gli stessi numeri 389 uno su milano e uno su napoli allora il giochino vi è piaciuto diciamo che è stato un piccolo recupero dai un piccolo recupero il famoso 19 lambata 20 uscita sulla nazionale mi raccomando si continua a giocare questa è una previsione validissima 20 28 20 82 bari genova nazionale vi ho anche detto che chi la porterà avanti e se uscirà ovviamente ce l'auguriamo tutti manderà lo scontrino riceverà un mese di abbonamento gratis nel mio gruppo whatsapp napoli palermo roma 9 19 69 stasera eccolo qua colpito e affondato 19 68 bellissimo ambetto super veloce su napoli e un piccolo recupero eccolo qua ci permette di giocare ci permette di non tirare fuori i soldi di tasca nostra stasera per giocare 19 il 90 caia ripreso in pieno 9 19 69 centinaia e centinaia di scontrini è un piccolo recupero non è una grossa vincita poi avevo detto chi voleva si poteva scompattare gli ambi vi avevo detto che il 69 era il numero più forte è uscito il 68 col 19 non è una grossa vincita ragazzi un euro di ambetto lo paga 19 volte la posta però alla fine insomma ci permette di giocare ovviamente non ci sono condizioni di questo giochino chi vuole la previsione può portarla avanti e ho veramente tanti scontrini 19 69 perché qualcuno si è scompattato gli ambi un euro di ambetto è un piccolo recupero non diventiamo ricchi ma almeno magari stasera possiamo giocare con i nostri con i soldi della lottomatica anche qui 60 euro di ambetto il 20 qualcuno l'ha giocato come estratto benissimo già solo per aver giocato il 20 ha ricevuto un mese di abbonamento gratis nel mio gruppo 29 euro insomma è un recu è un piccolo recupero però mi fa piacere perché l'avete veramente in tantissimi l'avete portata avanti questa previsione un euro e 50 di ambetto faccio vedere qualche scontrino perché se no a qualcuno gli viene il mal di stomaco 19 69 vedete molti mi hanno dato retta perché ho detto che il 69 era il numero più forte insomma un euro di ambetto qua sicuramente giocheremo gratis non sono grosse vincite però alla fine ripeto ci permette di giocare gratis questa sera e domani sera visto che noi giochiamo pochino 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 ancora qualche scontrino qui da farvi vedere eccolo qui ne ho caricati solo qualcuno perché tanto ripeto non è eccoli qua allora perciò la previsione per chi vuole portarla avanti la può portare avanti anche perché ho visto che non ci sono altre condizioni di questo giochino che potete farlo tranquillamente a casa anche voi mi raccomando io lo farò vedere ogni giorno questa previsione perché arriva da una tecnica fortissima arriva da una tecnica veramente forte il mese scorso ha fatto lambo secco e a volte è velocissima a volte la paga al primo secondo colpo a volte la paga anche al settimo ottavo colpo ma quando la porta avanti spara lambo secco e sono usciti anche parecchi terni su questa tecnica ovviamente molti ce l'hanno se la ricordano sono usciti anche parecchi terni perciò il mio consiglio è di portarla avanti ok allora detto ciò sul nostro servizio telefonico che sta facendo tanto scalpore a qualcuno proprio non gli va giù questa cosa però purtroppo se ne deve fare una ragione troverete anche oggi la stessa previsione la previsione del gruppo abbonati avevo detto che l'avrei messa solo ieri e l'altro ieri ma le chiamate sono veramente tante siamo contentissimi anche perché siamo lì 8 9 ore al telefono e siamo felici di rispondere un po' rispondo io un po' vi risponde Maurizio Jantolo un po' risponde un altro nostro collaboratore perciò anche per oggi troverete la previsione quella col 69 70 quella che ieri per un pelo non ci regalava lambo secco vedete su Torino perciò è ancora oggi disponibile la terremo ancora oggi se non uscirà stasera domani sarà l'ultimo giorno perché sapete che noi teniamo le previsioni quattro giorni ok ve lo dico già in partenza vi dico anche che domani sarà l'ultimo giorno per poter prendere questa previsione nel servizio telefonico la prossima previsione visto che ve l'avete chiesta in tanti che metteremo nel servizio telefonico e sarà già disponibile per chi lavorerà da domani mattina sarà la previsione del milano napoli parte 2 che giocherà giocherà soltanto due ambi su due ruote ok perciò vi anticipo già quello che troverete da domani mattina ovviamente la previsione ufficiale sarà quella del 69 70 e poi noi vi daremo anche questa del milano napoli parte 2 sarà in chiusa saranno due ambi ve lo dico già saranno due ambi da giocare tecnica fortissima che il mese scorso ha regalato due ambi secchi tra l'altro manca pochissimo e poi andremo in diretta qui su youtube io e il mitico orazio per regalarvi una tecnica che l'abbiamo chiamata tecnica carta e penna tecnica bellissima spero di avere anche rosario in diretta con me spero di avere anche elman in diretta con me insomma spero di avere un po di persone in diretta con me probabilmente la settimana prossima ve la doneremo qua su youtube carta e penna l'abbiamo chiamata carta e penna l'avete scelto voi il nome un po l'abbiamo scelto noi un po l'avete scelta voi e allora abbiamo deciso di chiamarla carta e penna ok allora ripeto per oggi attivo servizio telefonico sempre con la previsione del 69 70 perciò chi ha chiamato oggi è inutile che richiami anche chi ha chiamato ieri inutile che richiami anche oggi da domani vi anticipo già ci sarà anche la previsione del milano napoli parte 2 allora mi avete segnalato che purtroppo in un canale vi siete dissociati sono anche molto contento avete ci avete segnalato anche a maurizio jantolo che in un canale ieri sera insomma sono state delle dette delle cose un po pesanti io sarei curioso di sapere cosa fanno a catania perché io conosco i siciliani ed è un popolo meraviglioso è stato passato un messaggio un po un po pesante ovviamente io vi ringrazio vi ringraziamo per la segnalazione che ci avete fatta fatto ovviamente questa persona è stato molto furbo perché l'ha fatto non nel suo canale andando a danneggiare quest'altro canale noi abbiamo già mandato le mail a youtube con il pezzo incriminato dove ripeto sempre lo sfotto c'è ci può stare per carità tutto quello che volete però dire una persona una frase del genere a catania non sai cosa gli farebbero passa un messaggio molto pesante ci dispiace per questo canale perché noi purtroppo abbiamo dovuto segnalare il canale e lo spezzone di video ringrazio tutti quanti voi perché siete stati in tanti che ieri mi avete mandato la segnalazione ragazzi purtroppo è così conosciamo tutti quanti conosciamo tutti quanti la persona perciò non dispiace solo sono rammaricato ma lo dico veramente col cuore sono rammaricato che purtroppo la segnalazione a youtube è stata fatta su quest'altro canale che ingenuamente ingenuamente ha permesso ha permesso questa persona di dire queste cose molto gravi e dall'altra parte è stato molto furbo l'altro che ha usato il canale non suo perciò ci dispiace però ovviamente ragazzi quando si suppoi me l'avete detto voi perché io manco me ne ero accorto me l'avete detto voi me l'avete segnalato voi insomma sono state dette delle cose molto pesanti che vanno oltre il gioco dell'otto oltre a tutto quanto perciò per me parentesi chiusa ci penserà Maurizio Jantolo con youtube io vi saluto noi pensiamo a vincere ragazzi pensiamo a vincere e sempre forza carta e penna dal capitano è tutto un grosso besos ciao